E signori dopo un sacco di tempo siamo tornati con il signor Contis, let's go! Bella fratello, allora cosa dobbiamo fare oggi che sono super gasato? Allora fai bene ad esserlo perché abbiamo qualcosa di molto molto speciale Solo per questo iniziate a troppare un like in sezione codice ferro nel negozio oggetti per il massimo supporto Perché oggi bro proveremo a fare la skypeese con i medaglioni nella nuova season capitolo lego Oh mio dio, allora secondo me è un po' impossibile da fare la cosa Perché ti ricordo che con il medaglione la gente vede dove stiamo Quindi non so se riusciremo a vincere Bravissimo, guarda è proprio quello alla quale volevo arrivare Il problema grande cosa sarà? Sarà molto divertente perché la gente ci vedrà ma non ci vedrà Cioè capisci cosa significa questa cosa? Ah, tipo li imbrolliamo in qualche modo perché non sanno se stiamo sotto, sopra, destra, sinistra Ok questa cosa mi piace Bravissimo, loro penseranno che ci siamo però in realtà noi siamo sopra e semplicemente li freghiamo Allora ci sta un tizio qua da me se ci andasse di venire Però una cosa che mi devi promettere è una, dobbiamo fare la vittoria reale perché io vengo qua solo per fare le win Ok va bene se prima chiediamo tutti i nemici che ci sono qua sotto e sono veramente tanti Piano eh Sto da te, sto da te Vorrei un pompa se è possibile Qua ci dovrebbe stare forse Ok sì sì ci stai con me Viene a prenderlo Bello stuputo Prendo io Ok allora ce ne sta un ultimo Ce ne sta un ultimo e li abbiamo chillati più o meno tutti Occhi ben aperti è perché non dobbiamo perdere Sparo Vai sparagli tutto Dov'è che sta? Grave problema Veramente orrende queste granate ragazzi in questa season ci avevano ragione Fanno letteralmente schifissimo Cioè non hitano vabbè In ogni caso sto qua sopra a qualche parte Ho paura ferro Ma se tipo ce ne andassimo bro Eh ma è fortissima perché dobbiamo per forza federe Tanto lui dobbiamo fare la sky base Secondo me una cosa buona da fare è prendere tanti materiali perché ci serviranno Bravo no una cosa ancora più buona Vuoi sapere qual è? È dopo rintracciare il Peter Griffin L'hanno ucciso cioè Ah io dico Peter Griffin eh perdonami ma mi piace chiamarlo Non ti preoccupare Tanto non lo so manco Oddio c'è gente qua fuori l'ho sentiti Sì l'ho sentiti pure io Ti aiuto Ok allora Medikit ci serve Cosa facciamo? Non lo so Non lo so Allora la cosa che dobbiamo fare adesso è prendere i materiali e trovare quella schifina che ci dà lo shidla Come si chiama? Bravo 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 E soprattutto se posso aggiungere una cosa non morire Cercare in qualsiasi modo di non morire Anche perché Non ci credo davvero No pensavo capito dovessi morire Beh guarda se vuoi fare la vittoria Ok sì beh è ironico vabbè C'è un infame In ogni caso dobbiamo faitarli Stanno qua o qualche parte Però ne vedi Dammi uno squillo Telefonico Oppure dimmelo qua semplicemente Sì te lo dico qua Ma non serve che ti chiamo te lo posso assicurare Comunque io sto qua in alto ma non vedo nessuno Quindi in realtà secondo me sono scappati Oddio scappati non credo perché letteralmente Ok non stanno qua da me Ok ci sto ci sto Dai fai diamo questi pezzi schifo Oh mi spero non spero non da dietro Spero non da dietro Non so bene dove Ok Ok dalla casa Dalla casa Porca paletta Devo provare sempre a imparare in testa Proprio lì Il problema è che Ma è un cecchino oppure no Cioè io un cecchino ma senza mirino Ma che cazzo È un cecchino ma non ha il mirino Non lo conosco quello là È nuovo Fortale che ci sorprende sempre ogni giorno Confermo ribadisco Il fatto di non avere il mirino È complesso gioco Ok nulla ma è letteralmente distrutto Ci sta un team sotto di noi Un team qua davanti Ok Cosa potrebbe andare peggio Vieni sotto Però aspetta qua ci sta la roba del medaglione Quindi in teoria O ce l'hanno loro No 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 è diverso Quelli che stanno sotto di noi No 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 Quelli che stanno sotto di noi Hanno letteralmente il medaglione Quindi occhio Dobbiamo stare molto attenti Anzi siamo un po' fregati Te lo devo essere sincero Stanno qua da me Ci sto ci sto Arrivo Peter Griffin Ok però Arrivo È quello bro L'ho distrutto Ucciso Ma da quanto sei forte Ma da quanto sei forte Ce ne sta un altro in teoria In pratica anche Qua ci sono delle armi buonissime però Ho stato da me Puoi dropparmelo quel pompa Ti prego Ho morto uno Morto uno Ferro da me Bravo Li ho uccisi tutti e due mi sa Sono troppo forte Sono troppo forte Oddio Ho fatto un collate al Oddio No 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 è impossibile Sì non fatti due non so come Ti giuro non so come Brother ma di cosa stai parlando Allora fai una cosa una sola piccola cosa ti chiedo Ti prego Vieni qua Prenditi Cioè droppami il pompa e te ti prendi questo Ok scambiamo questa bellissima arma Tieni il pompa Grazie cucciolo Vedi che sei veramente un tesoro Droppamelo però eh Bravissimo Sta qua sta qua Signori Direi che siamo messi troppo bene Non ho mai fatto una roba del genere Sono troppo emozionato Raga Un gg per contessa Cioè poco da dire Ha fatto veramente una devastata incredibile Ora prendiamo tutte le cose qua Fulliamoci per bene i mazze E si parte con la troll skybase della nuova season Let's go Sì che poi tra l'altro abbiamo anche la season da noi Quindi la skybase qua viene perfetta Se ci sbrighiamo Abbiamo la season da noi No rispiegami bene questa cosa Eh abbiamo la season Scusa sono un po' confuso Che queste due chili mi hanno ripambito Bravo però comunque Guardi che hai fatto un collateral Che non ho mai visto nulla di simile In realtà ferro se guardi la clip Saranno due bot Però tu basta che non lo dice a nessuno No quello là mi stava distruggendo Ma è altro che bot Allora contesta Recap Dobbiamo fare una skybase Siamo messi super bene Io sono full tutti mazza addirittura Penso potete come sei messo te invece Eh sto messo proprio male Ma proprio super male Tranquillo basto io per tutto Io ho un rampino Che non dovrebbe farci morire di nano da caduta In teoria In pratica in realtà Non lo so purtroppo Basta di armi abbiamo entrambi il cecchino Abbiamo qualsiasi cosa vivente E ci spara un acqua sopra Un team Ok dobbiamo killarli No altra gente Ma che pa... Guarda che te lo cecchino solo per te Aspetta Aspetta Dai tira fuori la pistolina piccolino Lichiliamo e poi skybase Dobbiamo per forza fare questa cosa Per forza ma fa la skybase Perché sennò poi Non facciamo in tempo Perché penso che questo qua Non si voglia esporre Anche perché se dovesse farlo Mi sa che becca una cechinata Allora fermo un attimo Mi avvicino Così magari ci spara Ok Tu vai avanti io lo cecchino Ti faccio da esca eh Bravo ferro fai da esca Ok parca paletta Questo qua ha rotto le scatole Ok io ho fatto un 81 No no vengo ad aiutarti Vengo ad aiutarti Che questo qua è un pezzo schifoso Magari non lo puoi semperare Eh non lo vedo Non lo vedo Devo salire per forza Ma guarda come se ne sta camperato Ma sai perché Perché ci ha visto Ci ha visto Se ha capito che siamo troppo forti Quindi sta scappando Dici che ha capito che siamo conti e ferro Mi sa che la capito Sta qua sopra Orco diavolo Aiuto Ok L'ho fullboxato Oddio lui ha fullboxato me forse no Io fullboxato Non spiegare ma No c'è altra gente Non ci posso credere Oh mio dio 160 headshot Bravo 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 però ce ne sta un altro eh Adesso questo qua Gli tiene una cecchinata Che si ricorda per tutta la vita Cioè veramente va a dormire Con il mal di testa stanotte Dove sta? Non lo so Però ho ricevuto una cecchinata Tipo da questa parte Eccolo sta costruendo Ok Non è messo benissimo eh È sceso Oh quasi ucciso Porca paletta No Volete partire la kill Ok saresti stato abbastanza infame In ogni caso Let's go Nuova kill per noi Conti Dovremmo partire con la sky Vai tu parti Tu parti Tanto in realtà Ho quasi tutto full Tranne il ferro Però vabbè fa niente Ok allora la sky Sta partendo Allora con l'auto Dovrei fare molto piano Perché si ragazzi Tutto questo vogliamo prendersi Pure un'auto per sicurezza Vai piano per favore Ecco Allora sì vado piano Però questa macchina No Non dirmi che non va Devo prenderla in colpa Aspetta No 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 Non devi prenderla in colpa Stavo scherzando Stavo scherzando Non ti preoccupare Oh mio dio Mi hai fatto prendere un colpo Dimmi che ce la fai per favore No Perché Ascolti Allora ferro Ferro Aspetta un attimo C'è un piccolissimo problema Qua non va Non so come fare Provo Provo io Stai tranquillo Provo di venire a darti una mano Mannaggia St'auto comunque Sei veramente incastrata C'è un problema Allora aspetta Proviamo a spaccare qua E prendiamo una mini rincorsa Senza magari fare C'è sono solo io Lo stupido che non è riuscito Ok Va bene Ok vai Sali che saliamo Intanto raga Oh Neanche con la mano Guarda c'è il freno a mano automatico Guarda eh Non schiaccio nulla Non vai dietro Assurdo raga La fisica dove sta In questo momento Non c'è Perché Scusate la fisica Tu stai parlando pure di fisica Ma chissà cosa è la fisica Stai scherzando Piuttosto voi ragazzi Like Iscrizione ad entrambi canali Codice ferro Nelle gasolietti Per il massimo supporto Fermi Voglio provare una cosa Allora intanto qua Lasciamola senza che Guardala Possiamo anche non buildare Guardala Tanto Mi spiegate come è possibile questa cosa L'auto se ne sta letteralmente fermissima Comunque allora Porta sulla macchina a te Conti piano eh Speriamo che tu non cadi Eh però io ho paura Quando mi dai queste responsabilità Ti giuro che c'è sempre troppa paura No se la fai Conti fidati di me Vai pianino Però mi raccomando pianino Se mi ti cado muoio Ed è un problema ok Ti preoccupare Non ti preoccupare Comunque siamo rimasti in 24 Non vorrei dire eh Ok Bella cosa in tutto questo Quando cavolo è fin Quando è finisce Scusami il Ragazzi siamo altissimi eh Super alti oh Ah ma tu vuoi arrivare proprio al massimo Massimo Ok fermi 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 Ok siamo al massimo Qua devo per forza spaccare Ovvio che si arriva al massimo Oh cos'è Se no non è una skype Sfatta alla ferro Ok Vieni C'è ragione Oh io c'ho una paura Assurda Piano Oh porca paletta Ok se tu mi vieni per sbaglio contro la dietro Sono morto Se tu per sbaglio cadi Sei morto Se succede qualsiasi altra cosa Sei morto perché ti uccido io Chiaro Ah ok Quindi in tutte le cose sono fregato Ok Stavo attento Signori sto funzionando Comunque io conti abbiamo fatto La cosa più pazza Che abbiamo mai visto in sta season Signori Con la scheda Signori guarda che la droppiamo pure Voglio vedere cosa pensa la gente Con la scheda Con la macchina Skybase Nella nuova season Signori Oh mio Dio signori Assurdo Oh se vinciamo con la macchina Ti giuro che Veramente Mi faccio pelato Ok no Tagliamo questa scommessa Piuttosto che questo video Dovesse arrivare un migliore di like Mi faccio pelato Qua lo dico Qua non lo nego Sempre questo video domani Che tipo lo spam Mister Beast In ogni caso Ho finito i mazzi Questo è un grande problema Quindi scendi Aspetta Allora scendo E ti do i mazzi a te Perché io c'ho paura Bravissimo Tanto in safe ci siamo Speriamo che la prossima safe Si avvicino Col cavolo Grazie safe Che sta dall'altra parte E nulla Vabbè Però io aspetterei un attimo A costruire Perché se costruisci la gente Divide appena parte Inizia Ah no Tu vai tranquillo Ok A proposito Io non ne fregavo No in realtà no C'hai ragione Ma a proposito La gente cosa penserà Se ci vede sotto Intanto ogni volta che scendi Dimmelo che ti metto un muro No no ma io ti assicuro Che non scendo Perché se cattiamo Io almeno sono salvo Ok in realtà c'hai ragione Vabbè guarda io c'ho un rampino eh Potrebbe funzionare signori Rampino Come potrebbe non funzionare Questo sarebbe un problema In ogni caso dicevo Raga Non vedo le persone Siamo così alti Che non vedo le persone Ma infatti Mi sa che stiamo a fare server privati Che non c'è sta nessuno qua No ragazzi Ci stanno altre 16 persone Noi abbiamo un sacco di kill Ma cos'è No way Spawnata l'isola Una cosa non doveva succedere Vabbè Procediamo ragazzi Procediamo Conti ti va di raccontarmi Una storiella nel frattempo Io ti devo raccontare una storiella Allora due ragazzi Che facevano YouTube Si sono messi a fare Una challenge molto stupida Chiamata la Skybase Nel nuovo capitolo di Fortnite E sono morti Ah ovviamente nel gioco giusto Sì no no Ovviamente nel gioco Chiaro E invece io te ne posso raccontare un'altra La mia invece è una fiaba Due ragazze hanno fatto la Skybase Su Fortnite Nella nuova season Con la cosa Gemma Che ti dà lo scudo full E che tu dopo dovrai prendere così ti folli E hanno vinto la partita Ah oddio E sembra simile Però con due finali completamente diversi Bravo Quale sarà il finale giusto Scrivetelo nei commenti Oppure Parcheggiala qua la macchina Guarda eh Poi da Ci provo a andare un attimo sopra Piano piano Fermo Ferro Ferro per favore Per favore Stammi lontano Ah tanto c'è il freno a mano Tanto c'è il freno a mano ragazzi Cioè guardatelo Non ha fisica sta cosa Questa cosa Questa cosa non ha veramente Ah pensavo si fosse Ok io ho il cecchino Quindi guardiamo un attimo Se qua sotto c'è qualcuno Ferro mi raccomando Ti ricordo di non ittarmi O che siamo così tanto in alto Che non le possiamo vedere Erro Ti do una buonissima notizia Guarda sotto di noi Abbiamo l'acqua Quindi in teoria Se cadiamo Non moriamo Forse Ma zio ci abbiamo Io c'ho il rampino Tu non hai un impulso Sì ho l'impulso Ma non la prenderò Non riuscirò mai a fare quella roba Te lo dico già Ma devi tirarla Prima ancora di cadere La tiri da qua sopra Così è ancora meglio Ci abbiamo la macchina Conti non possiamo morire Ok Non possiamo morire Oh ecco Non mettetele in 05 Ogni volta che lo dice Moriamo sempre Allora Conti Io direi di riprocedere Verso la prossima save Che in realtà è letteralmente Qua da noi E quindi ci siamo già Ma piccolo problema Hai altri mazzi davvero Perché io ne ho solamente 270 E poi li ho finiti Io ho 100 di mattone Non so quanto possa servire Però tieni E proviamo ad andare Il più avanti possibile Ok ragazzi C'è un grande problema A meno che la prossima save Sia da noi Abbiamo perso Ok Dobbiamo per forza scendere Perso assolutamente no Perché ricordati che Se vediamo che la save Sta lontana Scendiamo E facciamo il sedere Comunque a tutti Perché ricordiamoci Che la partita Dobbiamo comunque vincerla Oh in effetti C'ha ragione la contesta Signore Allora Le persone qua Non se ne vedono Quindi che si divertano Loro di sotto E speriamo che la prossima save Sia da noi Incrociate le dita Anche voi da casa Vi prego Ho paura Siamo pronti per la save Oh Che culo Siamo i save Che culo Oh mio dio Ok faccio due scale Ma neanche Basta 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 Oh mio dio Questo video è assurdo Raga vi giuro Sì no davvero raga Non ho mai visto Una skybase così perfetta Mi raccomando Codice ferro Nei cozzoggetti Per il massimo supporto Like iscrizione Comunque Io ho un grande problema Non riesco a capire Se la gente Non la vediamo Perché sta letteralmente Dall'altra parte della mappa O sta sotto di noi Ma non la vediamo Perché siamo troppo in alto Io sto guardando Da qui con il cecchino Però ti assicuro Che non vedo nessuno Nessuno che builda Nessuno che prende materiali Cioè C'è una cosa da fare Distanza visuale Non lontano ma epico Ok 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 Serviva solamente Sistemare la visuale raga Però si vede tipo stramale Intanto vabbè raga Ne ha cecchinato un altro Gorinito Martin Cioè è veramente Troppo forte quel player Ok allora Qua vedo tipo del loot Per terra Quindi in teoria Non ha ammazzato qualcuno Però con il mio cecchino Non riesco a vedere Praticamente niente Ok io ti dico che Comunque vedo Ma non vedo Nel senso Vedo buildare Tipo male Posso dire una roba Tanto la challenge Non era quella di fare Tante kill La challenge era vincere Sopra la skybase Quindi che ci frega a noi Io faccio la cecchinata alla vita Fermo un attimo Ti do 10 euro se lo fai Guarda quello 10 euro instant Fermi Oh devi essere sicuro Di prenderlo eh Perché se lo moriamo Sì infatti Fermi L'ho missato No No ferro L'ho dimmazzato di nuovo Ma non ci hanno visto In teoria No perché Non ci sta capendo niente Poverino quello là Fermo Che cazzo No No Vado sopra la macchina Vado sopra la macchina io Ma sei rotto a caso Il mio pezzo Io non ho toccato nulla Non so cosa cazzo No se ne danno Conti No ti giuro Ti giuro sulla mia vita Non ho fatto nulla io Puoi guardare dalla mia clip Ragazzi Si è tolto da solo Cioè io ho visto che senti Calmo tranquillo Allora c'è un grande problema Che stanno sparando anche a te Hanno spaccato tutto Sei sulla macchina Dimmi che sei sulla macchina Sono sulla macchina ferro Al massimo Non so se buttarmi Non so se buttarmi Non lo so No rimani su Io rimango su Non me ne frega niente Vai 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 Rimani su Un'altra cosa che i pezzi si staccano da soli Non l'ho capo Ah si mi hanno spaccato Ferro 3 2 1 Geronimo Oddio che figata con la macchina Ti prego Ti prego Ti prego Ti prego Sono salvo Oh mio dio Che rimango hai fatto E a me mi hanno pure sniperato Porca vacca Mamma mia quanto so forte Mui c'è un problema però Che non ho mazzo Zero proprio Ok io vabbè guarda no Ne ho veramente poche Ti vorrei dare una mano Ma pure io faccio abbastanza fatica In tutto questo siamo rimasti in otto Cioè abbiamo la possibilità di vincere E la possibilità di perdere Eh no No davvero Non lo sapevo che c'era la doppia possibilità In ogni caso senti Siamo nella parte opposta della safe Quindi ci conviene correre Non poco E' vero ma tu c'hai la macchina La macchina ha fatto come il Titanic In questo momento Ok è leggermente esplodono Chiaro chiaro Beh diciamo che era un po' una supposizione Stupida la mia Vabbè io ho appena C'è chiamato uno in testa Ma non mi ha dato lì Ok hai lottato ora Ok non sembra più forte al mondo Ok ucciso uno Spero che avesse mazzo Dimmi che va a tanti mazzo Ti prego Dimmi che mi può da qualcosa Ok c'è un mazzo Oh mio dio Ne ho tantissimi anche Tre scudoni Vini 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 Buono Guarda 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 che ti troppo Oh che bello Mi sento un botte ancora Prendi 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 Mi sento un botto rifullato Ti giuro Bravissimo Ok abbiamo tutto Ok questa è nostra Ci sta un player No ci mirano No way porca paletta Stiamo stiamo sopra Senza paura Ok sì esatto Più che altro dobbiamo almeno Arrivare in safe C'è pure rampino ma non usavo Ok Conti è nostra La dobbiamo per forza vincere Sto partito Prendo l'aglio eh Stiamo sopra la montagna Dobbiamo aspettare Dovrebbero scendere tipo da qua sotto Attenti Eccoli l'appunto Eccolo ma chi stanno a fa Ma stanno a giocare la warcup Questi qua Per ferro Questi sono proprio bravi eh Ok 27 57 Mamma mi hanno approvato A cui scuppare Mi ha approvato a cui scuppare Però io gli ho fatto più male Ucciso Come l'hai ucciso Eh L'hai ucciso eh Non far domanda L'hai ucciso fuori safe Porca paletta Quelli per poco Non l'ho cicchinato Eh ferro Ciao al medaglione Devo andarla a prendere Per forti Ce l'aveva tutti Ce l'aveva tutti Stai scherzando Devi venire proprio in safe Se no ci muori proprio di danno Di vita eh Do farmi il medic E ti arrivo Promosto a un botto Sto super bene così Zio ma stai scherzando Ma siamo messi benissimo Conti è nostra È nostra sta partita Di ripartare Ma però Si voglio sicuro Calmiamoci un attimo Si stanno faiando Noi se gli facciamo il giro Riusciamo a cecchinarli Perché tanto sono distratti È diverso Non devi fare il giro Tu devi venire in safe In questo momento Quanti sei da la parte Forza Aiuto Mi stavano per cecchinare Ferro aiuto Cioè no mi stanno cecchinando Mi stanno sparando In 27.000 persone Ci sono tipo 6 persone Che ci vogliono sta a imparare Quindi vieni in safe con me Io sono il primo Adesso gli do Una bella sta a imparata Io qualcuno di loro Vorrei venire da te Il problema è che Cioè 20.000 persone Mi stanno sparando Provo a darti una mano Il più possibile Distrutto uno Distrutto uno Però ho bisogno del tuo aiuto Ho bisogno di te No Sto per morendo Cecchinato di nuovo Qui 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 Ferro aiuto Ho ucciso uno Ecco qua Perché ho tutti i miei taglioni Per carità però No porca valetta Comunque uno l'ho ucciso Quindi siamo Siamo contro uno in meno Ok siamo due Ok ci siamo riuniti Ci siamo riuniti Perfetto Ok guarda questi qua Dove se ne vanno No porca valetta Non sono in safe Non sono in safe Aiuto 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 Allora Io a livello di scelta Sto messo benissimo Ok dobbiamo far cadere quel tizio Ok l'ho fatto cadere Urca trotina Mi stanno sprando No 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 ragazzi Il team davanti a noi è molto forte Questo qua invece è da solo Diciamo che è un attimo più nel cil No è da loro safe Porca Significa solo una cosa eh Significa solo una cosa Vieni con me Si full box Come in work up Signori Mamma mia Mamma mia che paura Voglio andare a casa Mamma Ok vieni Io like in tutto questo Si si lo so Non ci chiedo scusami da dietro No way C'è chi nato uno 116 da là No 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 Porca paletta Ferro qua Ferro qua ferro qua Per favore ho bisogno di te L'ho visto più che altro anche sopra Io ho preso tutto 100 Ok l'ho distrutto quello da me Mi sta suonando la sveglia del telefono Che palle Scappo Mi sta suonando la sveglia del telefono Ma ti sembra una cosa normale Certo che è normale Perché io ci ho sentato in mazza E sto per morire Aiuto Io ci ho 20 di vita Sto per morire Ok uno si è lanciato palesemente da te Sette la sveglia pure io Ok Ok ma che non sta succedendo Ce ne ho una in box con te Aiuto Ferro Ferro No Non ci credo siamo morti Oddio che casino questo Perché è casino sto video Oddio Guarda dove sono con zero mazze Scappa Scappa por di Oh mio Dio Non ci sono uno Non chiedermi come Oh mio Dio Devo cichinarlo ha un colpo Oddio 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 mazze colpi Eh È un problema questo Let's go Let's go Oh mio Dio Partita della vita Skybase Vittoria La macchina che rimbalza Let's go Non ho mai fatto Non ho mai fatto una roba del genere Non succederà mai più nella mia vita Mi raccomando ragazzi Conti codice ferro Like Iscrizione ad entrambi i canali Se è il mio capo di compiti Noi ci vediamo in un prossimo video Conti scusami Ciao Ciao